video 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 no 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 video mentre mi taglio qua it is a Gyeongchung village in Busan, South Korea so you can cut small? small? yeah, like this yeah, così what's your name? my name is Claudio, Italia my name is Junghyun, Changyang Cho, Busan we are in May 2018, 7th of May this is basically my birthday card they peaks in Utah wow, korean card no 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 non so cosa succede in korea stiamo facendo un dramma e ora c'è una notizia perché è 1 o'clock 1 pm e faccio questo cut e poi faccio per uscire qualche scelta fantastico tutto ciò è fantastico mi piace un casino bellissimo mi lascio fare tanto poi oh che bello sono proprio tipo kpop è kpop kpop cut non posso cantare ora faccio un balletto adesso questo mi fa paura questo mi fa paura mi ha grandissimo bellissimo se non lo facciamo non lo facciamo non lo facciamo non lo facciamo grandioso molto bello ma è stato McDonald's perché hanno fatto hamburger con ricotta cheese l'italiano hamburger come siamo ridotti il mio amico con i bigodini ah si fa la tinta ecco perché bigodinava ora in Italia viene con i bigodini un giorno un giorno faremo un video con i bigodini come si dice bigodini bello bello ok ok sono servizievo ok sono servizievo ok sono servizievo che nello è il pubblico? il pubblico? il pubblico? no 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 comprate ok non c'è non c'è non c'è non c'è quale? ora chiedo il rosso fantastico ma che bello sono tipo lui eccolo lui sono tipo lui sono io sono io io con la bar sono suo papà vabbè ok ok grazie quindi allora sono disponibili tra le prezzi dopo che ci dà ti offra le prezzi le prezzi che hanno piacciono le prezzi le prezzi le prezzi le prezzi le prezzi